Non ci sarà alcun aumento di ore per i lavoratori della Sanità Service, non nei prossimi due mesi. Dopo si vedrà. Ciò che blocca la possibilità di adeguare quanto prima l'orario lavorativo delle società in house delle ASL è il parere che si attende fra poco più di un mese dalla Corte Costituzionale. Senza che ci sia quello non si può ragionare sul futuro. Occorre capire se rischia di saltare infatti l'intero banco delle società in house per effetto della spending review oppure si potrà serenamente andare avanti. E' questo quello che è stato deciso nella lunga mattinata di incontri tra l'assessore alla Sanità della Regione Elena Gentile e i sindacati. Tavoli divisi, ancora una volta, prima è toccato ai confederali, poi alle RSU. Ma il punto è uguale. Non appena si sarà espressa la consulta, i sindacati torneranno a riunire un tavolo di lavoro che avrà l'obiettivo di uniformare le condizioni lavorative di tutti i dipendenti delle società in house. Foggia, infatti, essendo stata la prima società a costituirsi, è decisamente più avanti rispetto alle altre. Una condizione che naturalmente a Taranto, Brindisi e Lecce non va giù. Se il principio sul quale si basa la costituzione delle società in house e le mansioni spettanti ai dipendenti sono le stesse, allora che lo siano anche le ore di lavoro. Ciò a cui si punta è portare i lavoratori a raggiungere fasce di lavoro che vanno da un minimo di 24, ovvero un part-time, al monte ore massimo, equivalente ad un full-time. L'accordo che sembrava essere stato raggiunto, oppure in tavoli separati, solo due settimane fa, slitta ancora. L'attesa che precede il parere della Corte Costituzionale è fibrillante, ma se come sperano e credono in molti si supera quello, dopo la strada dovrebbe essere tutta in discesa.